Players, vi presento il campione italiano, vincitore dell'OMA Pot Limit 9 Max, Angelo Maglio Pavani. Angelo, congratulazioni. Grazie, grazie mille. Allora, Angelo, tra l'altro una piccola riflessione. Tu hai vinto comunque molti, molti eventi della Season Isob durante tutti questi anni in cui sei amico della famiglia Isob, ma per la prima volta vinci un titolo nei campionati italiani. Esatto. In realtà mi hai incensato troppo perché di eventi vinti ne ho vinto uno solo. Tanti ripiazzamenti, migliaia di ripiazzamenti, però questo insomma ripaga i tanti sforzi. Guarda, sono stata un attimo colta in inganno perché ricordiamo che tu l'anno scorso sei partito con l'Italian Poker Team a Vegas e quindi normalmente chi appunto vince, adesso voglio sapere l'aneddoto perché stavo già veramente sorridendo, troppo bellissimo, e dicevo naturalmente chi vola con noi a Vegas è perché ha fatto tanti risultati. E' così, i risultati ne ho fatti, l'anno scorso sono stato secondo nella classifica Player of the Year, quindi bene, tra l'altro devo dire che è stato un anno divertente in assoluto, pocheristicamente. Meglio di così, Simo. Sì, con te. Ti ringrazio, Angelo. Allora, questo è un souvenir. Da Fremont Street, da Fremont Street, classico teschio messicano. Con tanto di Las Vegas c'è scritto. E' gas, dollar, eccetera, questo è diventato il mio amuletto e chissà che continui a portare bene. Oggi, devo dire, ha funzionato. È l'inizio. Oggi ha funzionato, oggi ho giocato bene, ero concentrato, ero un po' risentito da ieri dove invece non ho fatto benissimo. Ecco, ma magari il fatto che tu ieri, appunto, ci stessi dicendo non hai giocato benissimo, ti ha dato quel quid in più per dire, ok, oggi invece ci devo mettere la testa e soprattutto, ok, magari ieri ho sbagliato lì, lì e lì e quindi oggi non rifaccio gli stessi errori. Assolutamente, uno fa sempre un recap di quello che è successo nelle mani che ha giocato. Se uno non analizza i propri errori ma guarda solo le cose che ha fatto bene, non vado a nessuna parte. Oh, siamo proprio contenti, io proprio in primis, visto che abbiamo vissuto insieme questa avventura a Las Vegas la scorsa estate. Allora, GL per tutto, ma c'è qualche altro ma, forse l'O-Main che forse giocherai, forse. Allora, domani ci sono, che c'è il Mixed, per il Main vediamo perché il lavoro in questo momento mi impegna molto. Allora, GL, congratulazioni al nostro campione italiano, Angelo Pavan. Grazie, cara. Grazie a tutti.